Ciao ciao a tutti, un breve video perché volevo condividere con voi alcune riflessioni su un paio di episodi che mi sono capitati proprio recentemente. Niente di preoccupante, tranquillizzatevi, non c'è gossip, non ci sono cose, avvenimenti strani o inquietanti o brutti, ecco proprio una piccola curiosità e un paio di domande che vi voglio fare. Allora mi succede al mercato, c'è un banco dove vado ad acquistare i formaggi di salumi perché sono veramente di ottima qualità oltre che molto convenienti e tra le altre cose ho comprato del roast beef affittato che poi condisco con olio e limone, un po' di sale. Ogni tanto a me al soltino piace mangiare questo tipo di piatto, un'insalata e siamo a posto. Mi affetta appunto questi duetti di roast beef ed era quasi alla fine il pezzo. Rimane un pezzetto, una bella striscetta di roast beef, forse ne sarebbe sceso ancora un pochino però ormai quando si arriva alla fine di un salume, in questo caso di un pezzo di carne poi diventa difficile tagliarlo e il ragazzo, il giovanotto che mi conosce ormai da un po' di tempo mi dice se vuoi, se non ti offendi questo te lo regalo. E io ho detto ma ben volentieri, grazie, lo trito, ne faccio delle polpettine o comunque qualcosa, cercavo ancora. Ah meno male, mi dice, ma perché, io dico ma perché dovrei offendermi Roby? E lui dice, eh no sai, mi è capitato ancora di proporre la stessa cosa a delle persone, delle clienti o dei clienti che vengono qui comunque spesso con cui ho confidenza, una certa confidenza dopo anni come con te e propongo questa cosa, magari l'ultimo pezzetto, non so, il pezzetto che si è staccato di parmigiano o appunto il pezzetto, il fondino di un salume e si offendono, si offendono perché dicono non siamo dei poveri, non sono una poveraccia, no no, non lo voglio. Io sono rimasta così stupefatta, se non che è la stessa cosa mi capita anche del fruttivendolo, la fruttivendola in questo caso e avevo chiesto tra le altre cose, ho compreso la mia solita frutta e verdura perché a me piace prendere dal fruttivendolo più che al supermercato, sia il formaggio che la frutta e la verdura. E la fruttivendola, chiedo un cespo di insalata lattuga per il mio canarino, poi io la metto in un sacchetto avvolta nello scottex e rimane fresca per parecchio tempo. Chiedo appunto un cespo di lattuga per il mio canarino e lei mi dice ti posso dare questo che ha qualche foglia intorno non proprio bella, un po' bucherellata, se non ti offendi te lo regalo. Io dico ancora, ancora che mi si chiede se mi offendo, ma perché mi devo offendere? E lei mi ha fatto lo stesso discorso, sai mi è capitato magari, non so, qualcuno compra le mele, ecco mi ha fatto l'esempio delle mele, le mele ce n'è una magari che è leggermente puntinata e dico ti posso mettere anche questa, non ti offendi e non la vogliono. Ma siamo diventati così raffinati, così tutti appunto raffinati, sofisticati che ci ci prende lo sdegno se ci viene offerto in omaggio in regalo un qualcosa da mangiare. Adesso non credo che sia una dimostrazione di essere dei pidocchi o essere degli avari o essere con le pezze al sedere perché accetti che ti venga regalato. Cioè la mia mamma mi aveva insegnato niente cercare, niente rifiutare. E comunque, cioè ti stanno proponendo qualcosa comunque di buono. Nel caso appunto del roast beef era un bellissimo pezzetto di carne ancora fresco. Cioè l'insalata per il mio canarino, quella lattuga per il mio canarino, ma poteva essere anche mangiata benissimo anche da noi. Non riesco a capire questo senso così di superiorità come se accettare in regalo da un negoziante del cibo fosse segno di essere appunto in miseria, di essere in ristrettenze economiche. Non è così. Cioè io appunto non ho domandato niente, volevo semplicemente acquistare. Se il negoziante mi regala qualcosa, perché non è la prima volta tra l'altro che mi capita, non capisco perché mi dovrei offendere. E comunque del buon cibo che come sempre... Io ogni tanto devo parlare della mia mamma. la mia mamma mi ha sempre insegnato a non sprecare mai il cibo. Cioè io compro il pane tutti i giorni, anzi lo compro il sontino perché l'ha detto all'acquisto del pane quotidiano, dal fornaio, è il sontino. Se mi avanza anche un mezzo sfilatino di pane, io non lo butto, io lo congelo e alla prima occasione lo riutilizzo. Sprecare il cibo proprio non mi va. Non so, faccio la zuppetta di pesce e me ne avanza proprio un fondo. Lo allungo in qualche modo e ci butto due spaghetti alla sera. Cioè, il cibo non si deve mai sprecare. Purtroppo sappiamo benissimo che vengono ogni giorno sprecate tonnellate di cibo. tonnellate. Tanto più che purtroppo anche i ristoranti, gli avanzi, non li possono... Non parlo di avanzi gettati dai piatti, degli avventori, dei commensali. Parlo proprio di avanzi di cucina che magari non sono stati somministrati per quel giorno. Non possono assolutamente regalarli. devono buttarli. E tranne rarissime eccezioni, ecco. E questo mi sembra una cosa veramente scandalosa. E allora io volevo chiedere a voi se vi è mai capitato appunto che un negoziante, un commerciante, un esercente, un negozio di alimentari vi regalasse qualcosina. Ma anche mi è capitato, non lo so, adesso per esempio il periodo dei biscotti, le fave dei morti, che magari te ne mette, te ne regala due in più il fornaio, ma perché, devo dire, sdegnosa, no, non li voglio, li pago assolutamente, cioè. Ma li regala, li prendo ben volentieri. Non ci vedo niente di scandaloso. Ecco, ditemi se appunto anche a voi è mai capitato una cosa del genere, un evento del genere, e come l'avete preso, se l'avete accettato ben volentieri, oppure se anche voi, per carità, non critico chi rifiuta. Poi è questione proprio di come uno sente le cose. Può essere che capiti che invece quella persona che non accetta che venga regalato del cibo in più da parte del commerciante. Ditemi appunto cosa ne pensate, aspetto come sempre i vostri commenti che leggo sempre, tanto tanto volentieri, mi piace proprio sentire il parere delle altre persone, quindi aspetto i vostri commenti. E nel frattempo vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso, e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!